Siamo al Fuori Salone di Omitalia, siamo felicissimi di essere qui con Luca Valle e tantissimi ospiti che sono venuti a sorpresa a trovarci. Adesso introduciamo un attimino l'atmosfera che stiamo vivendo. Luca Valle, Sio di Omitalia. Buonasera a tutti. Il Fuori Salone quest'anno che abbiamo organizzato è un Fuori Salone, come dicevo prima, all'insegna dell'intagibilità, cioè della valorizzazione delle persone che stanno dietro. Comunque tante volte ci sono tante persone che fanno un lavoro scuro, come dicevo prima. Quindi abbiamo deciso di valorizzare queste persone che oltretutto qualcuno di loro le abbiamo anche inserite all'interno delle testur nelle finestre proprio per dare questo valore aggiunto a tante persone che tantissime volte non vengono mai valorizzate. Ringrazio anche Danny che l'ultima volta ero ospite io nella sua trasmissione Sky Business 24 e oggi invece stasera è venuta a trovarci lei quindi la volevo ringraziare per essere passata a trovarci. Allora Danny raccontaci cosa senti nell'aria per questo Fuori Salone. Allora io sento tanta dinamicità, tanta dinamicità, tanta voglia di evoluzione, di ribellione anche su quello che è successo ma una ribellione creativa, creativa grazie a tante aziende. In questo caso io ho avuto modo di conoscere da vicino una realtà italiana come la home Italia e non solo italiana ma internazionale in questa trasmissione che conduco per Sky che è Apple Position ed è non si può dire una festa, è dinamico, mi piace questa good vibe, buona vibra che possa essere concretizzata nel business e nelle vendite non solo in Italia ma soprattutto all'estero quindi questa è la cosa più importante che sto cattando in una città di Milano che è sempre stata ed è un centro molto importante come riferimento per il design. Diciamo che la città si è accesa in questo momento, è diventata grazie a noi, grazie al party di Home Italia diciamolo, diciamocelo e quindi godiamoci questa serata bellissima nello spazio di Home Italia, al fuorisalone.